0-1 peccato perché era un bellissimo muro 1 pari Paola ti mando gli screen me lo stai chiedendo per davvero Porca puttana comunque si è sempre più ritardata Si ma se la fai al rallentatore non serve un cazzo 1-2 1-3 Stavo già per dare il punto 1-4 1-5 2-5 Quando batte bene si arrabbia Non so perché E poi non gioca più 2-6 Ho fatto tutto benissimo Talmente scarsa che non c'è neanche la differenza tra fare bene e fare male Adesso ho fatto tutto bene Adesso ho fatto tutto bene Perché se non la colpisce forte con l'eccezione perfetta non ne ho detto C'è il complesso dei pirretti Eccolo qua Il complesso dei pirretti Se la colpisce forte va bene anche se fai schifo Se la colpisce forte va bene anche se fai schifo Calma Ecco presso i pirretti Torna Battuta per la battuta Uno pari 2-1 Ma come farai al vittorio veneto che c'hai tutto il mondo E' finita eh Nooo come fai Gli spazi aperti E' finita Noi non ti erano battuti in campo Secondo me se devi dire che deve stare costritta per poter battere bene Adesso mi porto dei pirretti e mi metto intorno Intorno ci sono solo i campi e non gli altri Perché c'è un po' nel vuoto Mi metto dei pirretti addosso e vedo se si sente un po' stretto 3-1 Cori sotto e muta eh capito? Schiava 4-1 Sotto alla paola 5-2 5-2 5-2 5-2 6-2 6-2 Sotto alla paola No aveva troppo spazio Perchè stendere un grano troppo 6-3 Ma no stai stai Cambio No no lei borbotta e dice di fermarsi Così che... No oh 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 Cazzo di cane coi braccioli Adesso Ja Si moriva Si Solamina Chi Dai 2-2 Chi 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 Scusa 2-0 3-0 3-1 Quello è un punto 3-4 come Francesconi 3-2 4-2 5-2 Hai rischiato di sbagliare comunque sia Fuori 6-2 Legge che meglio batti più ricevono bene 6-3 6-4 Stop qua Stop qua Stop qua